Il comune di Caltanissetta, così come detto precedentemente, sta procedendo all'affidamento, alla gestione di privati degli impianti sportivi. Si parte dal Palacanizzaro. Sì, dopo una delibera di giunta che individuava il Palacanizzaro, il Palamilan, il campetto in via degli Orti, indubbiamente l'avviso già è stato fatto. Quindi ci saranno 15 giorni, aspettiamo le proposte dei cittadini che vogliono gestire in prima persona il Palacanizzaro nel caso specifico. Io mi auguro che questa soluzione sia la soluzione per la gestione e nella gestione dell'impiantistica sportiva che, ripeto sempre, c'è un grande patrimonio che il comune ha ma che purtroppo spesso non riesce a gestire bene. Per mancanza di fondi o comunque per fondi insufficienti, gli impianti sono tanti? Sì, gli impianti sono tanti. I fondi ci sono, ma relativamente. Il problema è l'incapacità nostra di vigilare le società che gestiscono l'immobile, quindi l'impianto sportivo. A me spesso capita, fino a ieri sera, mi permetto di dire, passando dal Palacanizzaro, dal Tomasella, c'erano le luci accese fino alle 23. Quindi chi volesse gestire il Palacanizzaro cosa deve sapere? Rispondere all'avviso che noi abbiamo fatto, è un avviso proprio all'albopetorio. Chiaramente è una proposta e poi noi discuteremo con questa proposta se la riterremo valida.